Imprese, sostenibilità ed economia circolare, quali opportunità? Sostenibilità ambientale ed economia circolare, quali opportunità per le micro e piccole imprese? Questo è il tema del convegno organizzato da Confartigianato Ciracusa nell'ambito della propria assemblea provinciale elettiva in programma sabato prossimo a partire dalle 10 all'Urban Center di Via Bixio. L'appuntamento è l'obiettivo di fornire alle realtà imprenditoriali locali le necessarie conoscenze finalizzate alla realizzazione di nuovi business e quindi di creazione di nuove opportunità di sviluppo socio-economico del territorio. I lavori, dopo i saluti istituzionali, saranno aperti dall'assessorato regionale all'attività produttiva Eddie Tamayo e da Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese. Nel corso dei lavori saranno illustrate le linee generali del nuovo bando fare imprese predisposto dall'assessorato regionale alle attività produttive della regione Sicilia che prevede importanti contributi per l'avvio di nuove attività in settori innovativi da parte dei giovani che potranno ricevere un notevole supporto per l'ottenimento delle risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti.